Se dico ventunesimo secolo uguale tecnologia, siamo tutti d'accordo, vero? In fin dei conti, oggigiorno, se non hai quantomeno uno smartphone in tasca, sei letteralmente fuori dal mondo. Cioè social network a parte, se ci pensate, lo utilizziamo davvero per qualsiasi cosa. Chiamare, filmare, mandare messaggi, ma non meno altrettanto gestire le nostre finanze, investire, monitorare la nostra salute fisica e tanto, tanto, tanto altro ancora. Potremmo quasi dire in un certo senso che il solo limite è la nostra fantasia. Eppure, vi siete mai soffermati a pensare a come diavolo fanno a funzionare questi nostri modernissimi cellulari? Cioè vi pare possibile che noi sdidazziamo a caso lo schermo e questo capisce cosa vogliamo fare e lo fa senza bisogno che premiamo alcun tasto fisico? Fossimo nel Cinquecento, a quest'ora imbraccieremo fiaccole e forconi urlando alla stregoneria. Ma oggi sappiamo che ciò è possibile grazie a quella tecnologia denominata touchscreen. Ma qual è il principio che la fa funzionare? Come può captare il tocco delle nostre dita e convertirlo in un comando? Ve lo siete mai chiesto? Se sì, mi fa piacere, perché oggi parleremo proprio di questo, il touchscreen. Cos'è? Come funziona? Quanti tipi ne esistono? Quando è stato inventato? Perché è stato inventato? Risponderemo a queste ad altrettante domande nei prossimi minuti, pertanto rimanete con me fino alla fine e... Parentesi, se siete dell'idea che questa, come anche gli smartphone, siano state un'invenzione di mamma Apple, vi avviso che potreste rimanerne delusi. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. E non meno, ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì, ore 12.30. Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support per un nuovo episodio della serie Cos'è e Come Funziona, nella quale andiamo ad analizzare più da vicino la natura ed il funzionamento delle tecnologie con cui abbiamo più comunemente a che fare. Oggi è il turno del touchscreen, fiero protagonista di gran parte dei nostri dispositivi, indossabili e non, grazie al quale possiamo interagire con essi mediante il solo impiego delle dita. Prima di tutto un po' di storia ed anzi, partiamo subito in quarta sfatando il mito che i touchscreen e gli smartphone siano invenzioni di mamma Apple, perché così non è affatto. La nostra storia inizia infatti nel lontano 1965, quando un signore di nome Eric Johnson, ricercatore a Royal Radar Establishment di Malvern, in Inghilterra, descrisse il proprio lavoro su particolari dispositivi elettronici frutto dell'unione tra uno schermo e un digitalizzatore, i quali, a suo dire, avrebbero permesso l'interazione con qualsiasi schermo mediante il solo impiego delle dita. E allerta spoiler, ce l'ha fatta! Questa tecnologia, seppur ancora rudimentale, vide la luce nel 1972 con l'uscita del primissimo computer dotato di schermo al plasma, traslucido con funzione touch, ovvero lei fu pilato 4 un oramai pezzo di storia. E sebbene Johnson venga giustamente riconosciuto oggigiorno come padre di questa tecnologia, essa prese piede solamente negli anni 70, quando il primo schermo tattile della storia venne inventato per puro caso. Un team di ricercatori diretti dallo scienziato George Samuel Hurst stava conducendo esperimenti di fisica atomica all'Università del Kentucky, negli States, per colpa dei quali però consumavano talmente tanta energia elettrica da dover lavorare anche durante la notte per abbassare il carico sull'impianto, capirete quindi la comodità. Ebbene ve la faccio breve, fu proprio nel tentativo di risolvere questa problematica che il dottor Hurst e compagni arrivarono a sviluppare, per caso, il primo schermo tattile per computer della storia, ovvero proprio quello che venne installato sul plato 4 nel 72. Ma dato che è di smartphone che stiamo parlando, se vi state chiedendo quando questa tecnologia è prodata anche in campo mobile, la risposta è nel 1992, ovvero esattamente 20 anni dopo, con l'avvento del padre celeste di tutti gli smartphone, l'IBM, Simon. Brutto, rudimentale, tanto pesante che ci volevano quattro persone a tenerlo in mano e consumava più che l'ilva di Taranto, ma in un certo senso era proprio questo il suo bello. Ed anzi, fu proprio lui a dare al vecchio Stefano Lavori l'idea per sviluppare il suo personalissimo e rivoluzionario concetto di smartphone. L'iPhone. E dopo aver credo infranto i sogni di tutti gli Apple maniaci all'ascolto, torniamo alla domanda iniziale, ovvero qual è la magia dietro il funzionamento di uno schermo tattile? Anzitutto, chiariamo che i touchscreen non sono tutti uguali, ne esistono di moltissimi tipi diversi, come ad esempio quelli ad ultrasuoni o a infrarossi, dei quali però parleremo più avanti, ma i principali più utilizzati al mondo sono quelli capacitivi e irresistivi. Questi sono la tipologia più semplice ed economica tra quelli esistenti, ma trovano ancora largo impiego, come ad esempio nel bancomat, nelle casse del supermercato, oppure ancora nelle biglietterie e nei distributori automatici. Per capirci sono quelli che dovete premere tanto a fondo quando li volete utilizzare, che se faceste lo stesso ad un citofono vi trovereste a suonare all'intero condominio. Tanto premete forte, no? Avete presente? Questi sono, come dicevo, la tipologia più vecchia, ovvero i resistivi, i quali sono composti da due lamine all'interno delle cui scorre un flusso di corrente. Nel momento in cui andiamo a premere lo schermo per selezionare l'opzione desiderata, la forza che imprimiamo su di esso porta la lamina più esterna, ovvero quella verso di noi, a flettersi verso l'interno toccando quella sottostante ed interrompendo così il flusso di corrente in un preciso punto, il quale viene registrato dal software del dispositivo che si occupa poi di fare il resto. Il vantaggio degli schermi resistivi è che sono più longevi ed affidabili, ed è per questo motivo che vengono ancora largamente impiegati oggigiorno, ma per contro questa loro composizione a più strati li rende difficili da leggere, soprattutto poi se posti sotto la luce diretta del sole. Ed è per questa ragione che è solitamente agli sfortelli dei bancomat è presente una tendina parasole sopra il display. Inoltre, sempre a causa di questa loro struttura, non è possibile effettuare alcun tipo di zoom, in quanto essi sono in grado di processare un singolo tocco per volta, esattamente come le casse del supermercato. E se non vi fidate, provate a spingere due tasti contemporaneamente. Questa tipologia di schermi tattili sono quelli che troviamo solitamente impiegati su smartphone, tablet e simili, e per comprendere il loro funzionamento vi basterà banalmente pensare ad un panino, ma non un panino qualsiasi, uno a tre strati, roba da intenditori. Le due fette di pane sono rispettivamente la fonte dell'immagine visualizzata, posizionato più in basso degli altri, quindi un display OLED o LCD che sia, ed un vetro temperato posto esternamente a protezione del panino stesso, quasi non solo a merenda di Thanos. Hello! Ad ogni modo è lo strato intermedio che cambia tutto, esattamente poi come in ogni panino che si rispetti, il quale si compone di una lamina percorsa da corrente elettrica e costituita da ossido di indio stagno, più precisamente noto come ossido di indio drogato con stagno e conosciuto anche con l'acronimo ITO. Ebbene, dato che la pelle delle nostre dita è conduttiva, quando tocchiamo lo schermo ne andiamo a modificare il campo elettrico in un preciso punto, la qual variazione viene registrata dal software del dispositivo ed associata direttamente al tocco in quell'esatta posizione. In sostanza è tutta una questione di conduttività. Gli schermi dei nostri smartphone, infatti, funzionano solamente quando vengono toccati da un corpo in grado di essere attraversato dalla corrente, e quindi appunto noi stessi, le nostre dita, e anche quegli appositi pennini che troviamo solitamente in commercio. Ed eccovi spiegata la ragione per cui quando indossate un paio di guanti, come ad esempio in inverno, poi non riuscite ad utilizzare lo smartphone e dovete sfilarvene uno congelandovi i polpastrelli. Questo perché gli indumenti, eccetto che alcune tipologie particolari, non conducono elettricità e quindi non sono in grado di interferire col campo elettrico dello schermo. Mentre invece, se avete mai provato, chi non ha mai provato ad utilizzare lo smartphone sotto la doccia oppure in piscina, vi sarete accorti che è praticamente impossibile. Ciò avviene perché in quei frangenti sarà l'acqua stessa ad avere maggiore conducibilità e lo schermo sarà quindi elettricamente sovrastimolato, non riuscendo a registrare correttamente il tocco delle vostre dita. E definite quelle che sono le tipologie più classiche di touchscreen in commercio, voglio parlarvi ora di altre due forse meno ovvie, ma decisamente più fantascientifiche, ovvero gli schermi ad infrarossi e quelli ad onde acustiche di superficie. Immaginate per un attimo una situazione alla Mission Impossible in cui l'agente Ant si trova a dover attraversare una stanza piena di raggi infrarossi. Ecco, la logica è più o meno la stessa. In questo caso, infatti, i display emettono luce infrarossa organizzata più o meno come un reticolo invisibile. Andando a toccarlo andrete quindi a guastare l'ordine dei raggi infrarossi mettendo in moto una reazione che determinerà quale comando eseguire in base al vostro tocco. E un esempio banalissimo di schermi che funzionano secondo questa logica sono forse stupendovi, come mi sono stupito io a suo tempo, gli schermi di tutti gli reader. Ecco, qui approdiamo veramente molto vicini alla fantascienza perché questo genere di schermi rileva la posizione del vostro tocco non tramite la luce, bensì tramite il suono. Sui margini dello schermo si creano infatti onde ultrasoniche che viaggiano da una parte all'altra lungo la superficie dello stesso e andandolo a toccare disturberete questi fasci di onde sonore assorbendone l'energia. In questo modo il chip integrato che gestisce le operazioni capirà quale comando dovrà andare a selezionare. E prima che possiate domandarvelo, no! Questo genere di onde non sono udibili ad orecchi umano in quanto appunto ultrasoniche per cui anche avvicinandovi a guancia a questi dispositivi non sentirete assolutamente nulla. Mentre invece se siete voi dei piccioni oppure dei furetti beh, allora divertitevi come meglio preferite. E per oggi è tutto gente, queste erano solamente alcune delle tipologie di touchscreen ad oggi in commercio perché come dicevamo all'inizio ce ne sono davvero tantissime tutte diverse ma al contempo rassomiglianti. Il punto è che la tecnologia si evolve, avanza e progredisce ad una velocità incredibile per cui chissà se tra qualche anno non uscirà qualche novità che farà apparire i nostri smartphone a roba dell'antiquariato. Come si dice, lo scopriremo solo vivendo. Per cui come sempre io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi spero vivamente con interesse ma ditemi che cosa ne pensate? Cosa credete che ci riserverà il futuro? Arriveremo ad avere persino i muri touch oppure questa tecnologia è destinata a cadere nel dimenticatoio? Fatevi sentire qui sotto nei commenti e come sempre se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è T-Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale. Grazie. 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 Grazie.